Buonasera, benvenuti a Stasera Italia Estate. Sarà una settimana cruciale per questo governo, come ha detto lo stesso Premier Conte, ma soprattutto è una serata cruciale, o lo è stata finora perché è appena stato votato il decreto sicurezza bis al Senato, che è passato con 160 sì, dopo un lungo calvario e lunghe discussioni sul tema. Prossima ansia che già abbiamo in serbo per noi è mercoledì la TAV, dove già cominciano le polemiche perché il Ministro Salvini dice o passa la TAV o si va tutti quanti a casa, chi dice di no vuole buttare giù il governo. Adesso però io qui con me, con cui commenteremo tutto quello che è accaduto oggi, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, che chiaramente è stata anche lei decisiva, e ora ci spiegherà perché, poi decisiva alla fine relativamente, però per questo voto sul decreto sicurezza bis. E intanto abbiamo collegata con noi, di fronte al Senato, da Palazzo Madama, Giorgia Mennoni, che così mi aggiorni un po'. Che cosa succede lì, Giorgia? Sì, buonasera. Allora, è proprio di questi minuti la notizia che il decreto sicurezza bis è diventato legge dello Stato. È passata la fiducia con 160 sì, quindi noi sappiamo che è un voto in meno della maggioranza assoluta, quindi poi questo è un problema che capiremo se Salvini vorrà in qualche modo affrontare. La votazione è cominciata con la prima chiama alle 19.30, alle 20.30 è finita la seconda chiama, hanno fatto le varie operazioni di conteggio e ad adesso sappiamo il risultato. Il decreto sicurezza bis è legge dello Stato. Perfetto. Allora, il decreto sicurezza bis è legge dello Stato. Io tornerei in studio per parlare di questo con Giorgia Meloni, a cui voglio chiedere. 160 sì, tutto sommato dicevamo è andata relativamente bene perché poteva andare peggio, si diceva fino a 155 perché sappiamo che ci sono diversi dissidenti in questo momento di 5 Stelle. Però è sempre tutto un po' un ibrido, perché alla fine anche questa volta si contava sulla stensione di Fratelli d'Italia e sul fatto che non avrebbe partecipato Forza Italia se le cose fossero andate male. Questa maggioranza c'è e non c'è? La maggioranza non c'è, poi se si va a guardare il punto di quello che dovrebbe tenere insieme una maggioranza, cioè su un provvedimento così simbolico, su una questione così seria, così dibattuta in Italia, come quella dell'immigrazione, del contrasto all'immigrazione irregolare, delle organizzazioni non governative, sostegno alle forze dell'ordine, una maggioranza normale non si dividerebbe mai. E il tema di capire se ci siano o non ci siano i voti per portare a casa il decreto non sarebbe un tema all'ordine del giorno. È una buona notizia per l'Italia il fatto che il decreto sia stato approvato. Come si sa, Fratelli d'Italia ne condivide i principi, anzi se ci avessero dato retta al decreto sicurezza 1, ai quali Fratelli d'Italia aveva presentato come emendamenti molte delle misure che adesso sono contenute nel decreto sicurezza bis, non ci sarebbe stato bisogno di un bis, c'è stato bisogno di un po' di tempo, perché il problema sono chiaramente le mediazioni, non perché non fosse d'accordo la Lega, ma perché quando tu devi mediare su un tema come questo, con persone che la pensano in maniera diametralmente opposta alla tua, spesso accade che si producano delle norme imperfette. Sì, o annacquate. O annacquate. Però Meloni, la interrompo un momento perché vediamo insieme la copertina di giornata in cui sintetizziamo tutto quanto accaduto e lo commento con lei. Vediamo. Posso solo dire che sono stanco degli insulti che mi arrivano da mesi, non dalle opposizioni ma dagli alleati. Però ripeto, oggi è il 5 agosto ed è una bella giornata e nessuno potrà rovinarmela. Matteo Salvini arriva in Senato per il voto di fiducia sul suo decreto sicurezza bis, un provvedimento, l'ennesimo, che rischia di spaccare la maggioranza, fortemente voluto dalla Lega. Pensiamo che il provvedimento assolutamente passerà, non ci saranno problemi. Mal visto da buona parte degli alleati 5 Stelle, divisi fra moderati e dissidenti. Si ha un effetto deterrente basato sulla morte delle persone. Per l'esecutivo è la prova del 9 all'inizio di una settimana piena di passaggi delicati, a partire dalla mozione sulla TAV a firma 5 Stelle. Sarebbe un voto contro il governo, contro l'Italia e contro gli italiani e noi trarremmo le conseguenze perché non stiamo al governo per perdere tempo. Salvini riaccende la sfida e lancia l'ultimatum. Gli risponde il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, che rassicura. La mozione impegna il Parlamento, non impegna il governo. Questo significa che non ci saranno problemi dal punto di vista della tenuta del governo. Non pensa a un ritorno alle urne neppure l'anima più a sinistra dei grillini, Alessandro Di Battista, che, nonostante il voto e risposta delle scorse ore col vicepremier leghista, crede nella tenuta dell'esecutivo. Tornare al voto costerebbe agli italiani, quindi anche a me, 300 milioni di euro. Per cui il governo, insomma, deve andare avanti. Ma sono ore cruciali, i nervi restano a fior di pelle e lo sa anche il premier Conte, che si tiene alla larga da tensioni e batti vecchi e continua a lavorare. Oggi a Palazzo Chigi ha incontrato le parti sociali per impostare la manovra economica. Ecco, insomma, però con questo clima, Meloni, lei mi deve dire perché voi di Fratelli d'Italia vi siete astenuti. Perché la priorità per voi dovrebbe essere farlo cadere questo governo? No, la priorità per noi è sempre dare delle risposte agli italiani. I voti di Fratelli d'Italia, quando si tratta di difendere la sicurezza dei cittadini, di difendere i confini italiani, ci sono sempre. Purtroppo nella tecnica parlamentare il regolamento del Senato non prevede, come alla Camera, il voto distinto tra la fiducia al governo e il sostegno al provvedimento. È un unico voto. Alla Camera noi abbiamo votato contro la fiducia al governo a favore del provvedimento. In questo caso non si poteva fare l'unico voto coerente all'assenzione. Però mi consenta. Ho sentito due barra tre idiozie, non nel servizio, ma diciamo delle persone intervistate alle quali bisogna replicare. Una l'ha detta, mi dispiace, De Falco, ex Movimento 5 Stelle, che ha detto la seguente frase sul decreto effetto deterrente basato sulla morte delle persone. Cioè è come a dire, se tu contrasti le organizzazioni non governative nella loro attività con le loro navi, aiuti la gente a morire e così la gente non partirà più. Pietà. Quello che ha ucciso migliaia di persone in questi anni è stato proprio dire a questa gente che potevano partire liberamente nelle condizioni di navigazione peggiori che venivano messe su delle carrette sempre peggiori perché tanto le organizzazioni non governative le sarebbero andate a raccogliere. Quindi è esattamente il lavoro che invece è stato fatto in questi anni purtroppo a far sì che tanta gente si mettesse in mare e alcune di queste persone morissero. Se per esempio si facesse quello che dice Fratelli di Italia... Questo però nel momento che hanno utilizzato anche 5 Stelle era uno dei... È un'idiozia, mi dispiace, ma è un'idiozia perché i dati dicono che i governi seri che hanno difeso i propri confini hanno avuto anni nei quali moriva nessuno. I governi che invece negli anni in cui ci sono stati per esempio i governi di centrosinistra che hanno favorito l'immigrazione incontrollata è morta molta gente. Oddio, di rinumeri non sono tacciabili razzisti. Sul tema la vostra posizione è anche più radicale di quella della Lega voi avete optato per il blocco navale addirittura avete proposto... Noi siamo perché non partano i barconi che poi è proprio l'unico modo per garantire che non morirà nessuno per cui guardi siamo i più umani di tutti. La seconda, da Toninelli che per noi è sempre grande fonte di ispirazione che dice la mozione impegna il Parlamento non il governo. Io dico ragazzi siamo all'ABC della politica Toninelli per carità le mozioni impegnano il governo le fa il Parlamento non per impegnare se stesso non avrebbe motivo ma per impegnare il governo quindi quando il Parlamento mercoledì impegnerà il governo a mandare avanti il provvedimento dell'alta velocità Torino-Lione il governo dovrà dare seguito a quello che dice il Parlamento caro Toninelli però lei mi deve spiegare mi racconti secondo lei perché oggi Salvini ha rilanciato in maniera così violenta sulla TAV più che sul decreto sicurezza in qualche modo chiedendo ai 5 Stelle di non farla questa mozione contro dicendo è un modo di sfiduciare Conte di sfiduciare il Premier perché? Qual è l'obiettivo? Vuole proprio lo scalpo e non gli basta vincere la partita o teme che le opposizioni possano uscire dall'aula e si ponga davvero il problema? Guardi la proposta delle opposizioni uscire dall'aula noi l'avevamo fatta come Fratelli d'Italia perché appunto insomma secondo alcuni alcuni dei che si giochino tra loro la questione il nostro presidente dei deputati Lollo Brigida aveva fatto questa proposta per dire comunque il governo si deve impegnare proprio per evitare che poi faccia il gioco delle tre carte che anticipava Toninelli in questo servizio che mica sono io ma come vale per voi vale anche per il PD e per Forza Italia uno dice vogliamo far cadere il governo usciamo i PD e Forza Italia hanno preferito hanno detto che anche questo è comprensibile noi vogliamo essere certi che la TAV si faccia come il discorso che prendeva lei sul decreto in parte come il discorso e quindi preferiamo votare la mozione io prevedo che non accadrà molto di diciamo di particolarmente preoccupante nella giornata di mercoledì anzi mi pare che alla fine il Parlamento a eccezione dei 5 Stelle sia d'accordo sul fatto di mandare avanti l'alta velocità Torino-Lione e quindi non prevedo che ci saranno problemi su questa determinazione poi che il Movimento 5 Stelle per tentare di salvare la faccia agli occhi dei suoi elettori voti a minoranza una mozione che tanto non passa a me interessa poco perché la questione è un po' quella Salvini gli chiede di rinunciare anche a quel minimo di rapporto con la base per cui loro in qualche modo la blandiscono con questa mozione visto che già hanno fatto retromarcia ma questo guardi e questo è un problema è un problema del Movimento 5 Stelle nella misura in cui il Movimento 5 Stelle ha il ministro delle infrastrutture c'è un problema di Toninelli Toninelli può continuare a fare finta di niente ma parliamo di uno che fino a ieri ci ha detto che la Torino-Lione non si faceva che ha detto a quelli che l'hanno votato la Torino-Lione non si fa e che oggi fa parte di un governo che farà la Torino-Lione e quindi è un problema che loro obiettivamente hanno non serve neanche esagerare per girare il chilo nella piaga il dito nella piaga mi pare già abbastanza comprometto però invece a me interessa sapere da lei visto che lei è Fratelli d'Italia e non 5 Stelle perché ci deve svelare l'arcano del perché Salvini sapendo che i sondaggi lo danno al 38% e voi siete in salita avete superato la settimana scorsa Forza Italia potreste andare proprio dritti e tranquilli al governo perché Salvini sceglie di non andare al voto secondo lei? Guardi io francamente a questa domanda non so se vogliamo insieme provare a telefonare in diretta al ministro Salvini e a chiedergli per me è un arcano anche per me francamente nel senso che è sotto gli occhi di tutti e io diciamo ho lavorato perché fosse plastico alle scorse elezioni europee ho detto guardate che il mio obiettivo è dimostrare che c'è una maggioranza alternativa invece dicono non c'è niente oltre questo governo non è vero c'è una maggioranza scelta dagli italiani che potrebbe governare con dei numeri che non abbiamo visto negli ultimi 15 anni probabilmente 10 anni che potrebbe quindi dare all'Italia un governo stabile io non avrei avuto dubbi e le aggiungo potrebbe anche essere citoti forse che in questo momento essendo uscito da Forza Italia essendo vicino a Salvini vicino a voi però c'è una grossa possibilità oggi voglio dire tutti i sondaggi ma anche i risultati di tutte le elezioni che si sono celebrate che poi dal mio punto di vista sono più attendibili dicono c'è una maggioranza forte e coesa per me francamente io da tempo non capisco perché Salvini preferisca piuttosto che fare il premier di un governo voglio dire dove il tuo alleato col tuo alleato condividi le cose fondamentali non ci sarebbero particolari problemi però lei qualche idea se la sarà fatta cioè teme che si possa essere assediato dalle vicende giudiziarie no no non credo che sia questo il problema e del resto i sondaggi mi pare che dimostrino ampiamente che non è questo il problema probabilmente il problema o la paura è stata quella diciamo del non voto la paura della possibilità di giochi di palazzo e di alternative che non dipendono guardi solo maggioranza e si possano mettere d'accordo gli intendimenti del Presidente della Repubblica e non va sottovalutato un Parlamento nel quale diciamo le oscillazioni dei partiti di riferimento di molti parlamentari fanno sì che oggi diciamo un buon 60-70% dei parlamentari eletti ha il dubbio se sarà parlamentare ancora è una cosa che non va sottovalutata diciamo chi conosce un po' il Parlamento lo sa quindi probabilmente la paura che poi non si andasse a votare ha affermato Salvini facendo però provocando in realtà il rischio un rischio maggiore perché oggi noi siamo più vicini al governo tecnico di quanto non lo fossimo chiaro perché adesso comunque la manovra la devi fare quindi adesso rompere diventerebbe molto più problematica lo avevo acceso i riflettori su questo rischio ogni giorno che passa ci avvicina al governo tecnico purtroppo oggi siamo più vicini delle favole con Salvini con Salvini premier la Meloni che fa ministro questo così almeno un attimo difesa posto della 30 non è beh guardi dopo la 30 o si prende gli interni e se ne va anche lei al papete beach no però giusto colpo l'occasione per farle vedere adesso un titolo di giornale uno strap per riprendere questa questione sappiamo che sabato si è discusso molto perché c'era un Salvini lo vede alla console a petto nudo con l'inno di Fratelli d'Italia all'inno italiano di Mameli allora io le chiedo si è molto discusso perché molti dicono un atteggiamento irrituale anti istituzionale un ministro degli interni non si può comportare così addirittura molti generali hanno storto dicendo che l'inno d'Italia deve avere un rispetto e occasioni deputate lei che ne pensa? allora sono due temi diversi io penso diciamo non mi scandalizza Salvini col costume da bagno a torso nudo che fa la conferenza stampa ma lei ha una conferenza stampa in pareo la farebbe? ma io non ho il fisico per fare la conferenza stampa in pareo ma questo vi l'ha detto io potessi andare a fare anche il bagno con dei tutoni ci andrei volentieri lo dico e mi prendo la responsabilità io è più facile che ci vada con la tuta da sci è più facile trovarmi con la tuta da sci a fare la conferenza ma quella è una questione diciamo di sicurezza secondo me è solo la sicurezza in se stessi è un problema di autostima su questo diciamo su questo un po' difetto dico il tema di Salvini lui ha da questo punto di vista ha fatto scuola questa sua capacità dal massimo delle cariche anche istituzionali di rappresentarsi sempre con una persona molto vicina alla gente comune in realtà è un suo punto di forza non è un suo punto di debolezza sull'inno invece non sono d'accordo l'inno è e chiaramente io lo dice anche il nome del partito che ho fondato ci sono delle cose che hanno una loro sacralità l'inno d'Italia per me ha una sacralità quindi per me proprio non andrebbe suonato indipendentemente dalla presenza del presidente del ministro degli interni in uno stabilimento balneare con la gente mezzanuda le cubiste il mojito no non credo che sia che lo abbia chiesto Salvini francamente non fosse altro perché insomma i leghisti non mi pare che vadano pazzi per l'inno storicamente quindi non credo che sia stata una scelta di Matteo Salvini in ogni caso quella è una cosa che sicuramente insomma io ecco per me l'inno ecco l'inno si suona solo in alcuni momenti incute una certa reverenza senta invece le voglio chiedere a settembre ci sarà la vostra storica festa di Atreio no e anche quest'anno dal 20 al 22 settembre giusto allora le chiedo isola di Berina Roma saremo già nonostante diceva prima che si allontana la possibilità di votare perché ci sarà la manovra in campagna elettorale quindi sarà una festa in cui bisognerà pensare a questo ma io dico che noi siamo già in campagna elettorale già adesso non occorre aspettare settembre la crisi di questo governo è di fatto una crisi già aperta l'unica incognita è capire a cosa porterà a quella crisi a quali tempi porterà a votare ma insomma francamente io do quasi per certo che si voterà entro la prossima primavera quindi l'edizione di Atreio è sicuramente un'edizione nella quale si disegna il modello di Italia che Fratelli d'Italia immagina non a caso il sottotitolo è l'Italia che pensa in grande sfida alle stelle più che sfida alle stelle sfida ai 5 stelle è anche una sfida all'Italia è anche una sfida all'Italia depressa quella della decrescita felice del non facciamo niente dell'Italia incapace dell'Italia piena di là tutto quello che non vi piace di questo governo giallo-verde tutto quello che non ci piace noi vogliamo un'Italia che torni a parlare di miracolo miracolo italiano un'Italia ottimista un'Italia orgogliosa un'Italia seria un'Italia che guarda in alto un'Italia che cresce bene allora io ringrazio moltissimo Giorgia Meloni in bocca al lupo per la festa grazie a voi viva il lupo